A partire dal 11 settembre, Forum farà il suo ritorno su Canale 5, rappresentando un appuntamento fisso delle reti Mediaset che ha attraversato ben 38 edizioni, con la 39esima già pronta a prendere il via. Ancora una volta, il volto guida del Mezzogiorno televisivo sarà Barbara Palombelli, che si dedicherà completamente a questo progetto dopo aver lasciato Stasera Italia. Nonostante il programma conservi la sua struttura consolidata, una formula vincente che lo ha mantenuto sempre attuale, ci saranno alcune importanti novità nella nuova stagione di Forum. Benvenuti su Reality Italiano, la tua finestra sul mondo delle notizie e del gossip più intrigante. In primo luogo, l'introduzione dell'intelligenza artificiale, un argomento di discussione da molti mesi. Per la prima volta in una trasmissione televisiva, l'IA sarà utilizzata per fornire pareri sui casi trattati in puntata e nelle decisioni dei giudici. Non è ancora chiaro come verrà implementata questa tecnologia e quale sarà il suo ruolo esatto, ma è certo che Forum diventerà il primo programma Mediaset a sperimentarla. Oltre a questa innovazione, sarà presente anche un avvocato specializzato in questioni riguardanti minori, in particolare casi familiari che coinvolgono giovani. Questi due elementi arricchiranno ulteriormente un programma già molto seguito, generando inevitabilmente spunti di riflessione che potrebbero andare oltre i confini del programma stesso, dando vita a discussioni appassionate. Non ci saranno invece cambiamenti nella squadra di giudici, che rimarrà invariata, con volti noti come Francesco Foti, Melita Cavallo, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Inoltre, in studio sarà presente la giornalista Giulia Lea Giorgi, e torneranno anche Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odiscalchi, Ladislao Liverani, Roberta Fontana e Giulia Campesi. Ed ecco il ritorno di Donna Maria che viene riammesso al programma in versione light. Sarà infatti presente solamente in alcuni dalla programmazione di Forum. Lo rivedremo nuovamente assieme all'amico Paolo Ciavarro. Inoltre, verrà riproposto lo «sportello di Forum» in onda tutti i giorni su Rete4, a partire dalle 14, un segmento che da anni riscuote ottimi risultati durante il daytime.